Avevo quattro foto di te fatte con questo mena, quattro foto, no aspetta Armando io la volta scorsa ho fatto fatica a stare in silenzio la volta scorsa, perché delle tue lacrime sinceramente a me non me ne è fregato proprio niente, come non te ne è fregato niente delle mie lacrime quando tu, no 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 aspetta Armando facciamo un passeghiere, allontanati innanzitutto, allontanati, 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 no no no, devi fare attenzione tu di quello che sei nato in sei anni, perché si è rivolto contro di te, il 3% si è rivolto, si è rivolto verso di te solo il 3% e hai fatto tutta sta sceneggiare, è chiaro, ok Maria la volta scorsa io ho fatto fatica, io innanzitutto della figlia non ho mai parlato, si ho capito, non ho mai parlato, tu gli hai detto delle lacrime non me ne fregai niente, perché Maria sono le mie lacrime, quel signore che non ha mai creato nulla qui dentro, quel signore che non ha mai creato nulla qui dentro, è bravo solo ad attaccare, calpestare le mie lacrime dopo averle, ho letto una lettera, non sono problemi tuoi, solo una lettera, non sono problemi tuoi, è chiaro, e quindi io che cosa mi devo fare intimorire da due lacrime, Maria ha calpestato un intero studio, intero studio, ha calpestato le mie lacrime dopo aver letto una lettera e una dichiarazione d'amore, ok, e io perché, io mi devo far intenerire da quelle lacrime Grazie a tutti